Perché mi vado a lavorare? Alle 8 sono fuori casa e perciò fuori casa dopo due asso immondissimi e porto a giro con me. Piccole manovre di aggiustamento, il porta a porta per la raccolta differenziata in centro storico Venezia entra nel vivo. Dopo dorso duro, da alcuni giorni il nuovo sistema è partito anche a Santa Croce e San Polo. Positivo? Sì. Va bene? Cosa la number one? Degna del sindaco che abbiamo? Dalle 6.30 alle 8.30 si deve portare la spazzatura nelle 10 postazioni, dalle 8.30 alle 12 invece è l'operatore a suonare il campanello anche dei negozi. Sono passati questa mattina e mi hanno chiesto se avevo carta, cartone o immondizie, quindi ho dato alcuni cartoni che avevo qua e tutto bene insomma. Il campanello è immaccabilmente alle 9.30 del mattino. Noi mettiamo dentro l'entrata il sacchetto, suonano, apriamo, prendono e buonanotte. L'organizzazione da palazzo a palazzo può essere differente. Chi ha corti interne conosce già da tempo il netturbino di fiducia. Da noi abbiamo un bravo netturbino, quindi per noi va benissimo così, abitiamo in una corte privata, quindi non abbiamo problemi. Altri invece hanno uno spazio organizzato nell'androne delle scale. Non glielo do perché c'è in un armadio all'interno dell'ingresso, quindi... Niente di che lamentare. Assolutamente, anzi, anzi... È solo una questione di abitudini. Unica incognita quando Calli e Campielli si riempiranno di turisti sistemati nella selva di appartamenti affitti a camere. Per loro servirà un decalogo preciso. In questi due mesi per le verifiche gireranno gli ispettori, poi scatteranno le multe da 167 euro.